L'incidente è una mattinata di venerdì 29 dicembre intorno alle 7.30 sul tratto della Rocchetta tra San Ponce e Verperga. Una Nissan Juke condotta da un uomo si è scontrata contro un trattore e dopo l'impatto è finita nel prato e costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili fuoco di Cornia Ivrea, l'ambulanza del soccorso avanzato di Castelamonte ai carabinieri di Aglie. L'uomo è stato estratto dalla limiera dell'abitacono e dopo le prime cure è stato trasportato a San Giovanni Bosco, il leso invece è il conducente del trattore, il sinistro è il vaglio dei carabinieri. Grazie. Grazie. Grazie.